Hanno aggredito e rapinato della collanina un 15enne mentre andava a scuola, per questo i carabinieri della stazione Centocelle hanno sottoposto a fermo di indiziato quattro giovani cittadini egiziani tra 18 anni e 19 anni, tutti senza fissa dimore con precedenti, per rapina aggravata in concorso. L'altra mattina all'interno della stazione Mirti del metro C, un 15enne mentre si stava recando a scuola, era stato avvicinato da un gruppo di giovani che dopo averlo colpito con calci e pugni gli avevano strappato dal collo la catenina in oro per poi dileguarsi. Il ragazzo, che per fortuna non ha riportato ferite, aveva poi allertato il 112 e sul posto erano intervenuti i carabinieri della stazione di Centocelle che da subito hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Grazie alla dettagliata descrizione fornita dal 15enne e all'attenta analisi del video delle telecamere e degli impianti di video sorveglianza della metro, è stato possibile dare un volto ai quattro giovani che appena qualche ora dopo sono stati individuati in piazza dei Mirti e riconosciuti anche grazie allo stesso abbigliamento indossato. Gli indagati sono stati riconosciuti dalla vittima e sottoposti al fermo di indiziato di delitto. I militari hanno anche ritrovato la collanina in oro rubata che è stata restituita al 15enne e i quattro sono stati portati nel carcere di Re Bibbia dove il tribunale ha convalidato il fermo e disposto per loro la permanenza in carcere.